Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. In Fipilicco, da di due chilometri, per incidente tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Ancora in A1 traffico rallentato per veicolo in avaria tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. In A1 per lavori sono chiuse le corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze Scandici con la chiusura in direzione Bologna in entrata e uscita dello svincolo di Firenze in Pruneta a Firenze previsti presidi della Polizia Municipale per dare informazione ai cittadini alle intersezioni con Viale Europa e Viale Dalla Chiesa. Sulla Firenze Siena scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!